ok, saliamo ancora un po' bella foto che non l'avevo mai visto ma al 110 c'ha l'anello radar sotto la pancia che si muove ah si? gira, si? anche quello dello stuca, il radiogoniometro il radiogoniometro dello stuca lo vedi quando sei nella posizione del mitragliere si ed è un'altra cosa però ha proprio una forma diversa si si è una specie di cilindro esatto, si, questo invece è tipo fede, tipo anello che sta sotto la fusoliera potresti essere due anelli beh io adesso ne vedo uno, non so se ce n'è un altro però è bello, proprio si muove con la velocità giusta, ammazzante, che lavoro è un'altra cosa che si muove con la velocità giusta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanta. Stronzo, ti sparo. Grazie a tutti. 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 109. Grazie a tutti. Sto bene. è venuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. sono dentro. Ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. a tutti. sembra. a tutti. guarda Marco, ti sto passando sulla testa se sei tu a terra con le luci accese no ah, però ti ho visto fermata con le luci accese guarda Marconi, guarda Marconi guarda Marconi guarda Marconi vai guarda Marconi guarda Marconi guarda Marconi e c'avevi dietro quel figo di Marta perché ero un figo di Marta e beh del resto e beh the class is the world esattamente ma non tutto il resto l'abbiamo preso no no, ma già giusto aspetta, torno e finitraglio accendi le luci Marconi si, ok fatto allora qua dove sono le luci accese? è accese? eh certo non vedi ah, si 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 è accese anche le luci d'atterraggio tutto scusami non mi vedi bene cazzo ma che fai? mi spari per davvero? non c'è un bastardo allora guarda guarda ma poi guarda col momento del coglione che mi sta prendendo in questo momento rischio di prendere gli altri aerei nemmeno lui volendo quindi cioè è meglio che sto buono perché è già terriamo qui va e questo non è il nostro aeroporto no? no no almeno facciamo compagnia Marconi guarda